Innanzitutto voglio ringraziare la Fondazione Cassa dei Risparmi e di Alessandria per il contributo che ci ha donato, col quale abbiamo acquistato queste divise importanti per i nostri volontari di protezione civile della provincia di Alessandria. Ritengo che la provincia di Alessandria faccia bene di investire continuamente sul gruppo di volontari di protezione civile che servono per la sicurezza del territorio, ma servono anche come supporto ai piccoli comuni per la redazione dei piani di protezione civile. Quindi ritengo oggi una giornata semplice ma intensa che ha certificato il fatto che la provincia di Alessandria è molto sensibile alla protezione civile e al servizio che può rendere a tutto il territorio. Per la Fondazione Cassa dei Risparmi e di Alessandria è sempre un grande piacere avere a che fare con la protezione civile. Perché? Perché la protezione civile fa parte di tutti noi, fa parte del nostro territorio, fa parte della nostra popolazione. Quando c'è troppa acqua intervengono, quando c'è troppo fuoco intervengono, quando c'è troppo caldo intervengono, quando fa troppo freddo intervengono, quando c'è bisogno intervengono. E questo veramente è incomiabile. Un grazie quindi prima di tutto all'organizzazione e ai volontari della protezione civile di Alessandria. Oggi ho sentito ripetere più volte la parola gratuitamente, volontariamente, una cosa che oggi come oggi non è frequente constatare. Siamo in un mondo in cui gratuitamente esiste poco e qui nella protezione civile invece il gratuitamente è l'ordine del giorno, è la normalità. Per questo dobbiamo dire grazie a questa organizzazione e a questi volontari. Ma soprattutto io vorrei tanto che questa cerimonia fosse motivo per una presa di coscienza, in primis per la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, affinché si capisca che queste organizzazioni hanno bisogno di mezzi moderni, di mezzi evoluti, di mezzi, ahimè, anche costosi. Però è un dovere di tutti aiutarli e cercare di essere compartecipi nella loro veramente incomiabile opera gratuita. Grazie. Oggi a Palazzo Ghilini si è svolto un importante incontro con il mondo dei mass media, delle autorità locali e il volontariato. Il nuovo gruppo di protezione civile provinciale nato poco tempo fa di cui si è dotata la provincia. È il primo gruppo in Piemonte e uno dei pochi in Italia. Questo gruppo va ad affiancare i funzionari dell'ente provincia che gestiscono le fasi di emergenza, quindi in sala operativa e saranno nei loro occhi sul territorio con il rapporto digitale volontario. Vicino a noi c'è stata la Fondazione Cassa di Risparmio che proprio oggi ha consegnato le nuove uniformi di P.I. ai nostri volontari. Quindi un evento molto importante per il nostro territorio e un momento anche di rinnovamento e di innovazione su quello che è l'aspetto tecnologico e informativo che la provincia mette in campo durante le fasi più critiche dell'emergenza.